Oggi ci abbiamo Enrico! Ed è un po' che non ci siamo con Enrico! Abbiamo anche Lino! Ciao! Che fai Marco? L'ho sparato io per darvi un ordine! Ah è bravo! Vado io ma sono il più vecchio, vado avanti! Va bene Eliezer! Ok! Tranquillo ora! Vado di qua occhio! Come si accendeva noi! No! Ho un cappello amici! Come un cappello? Ho uno scudo sopra la testa! Cosa succede? Ma come no? Sto ancora pensando al gioco di prima! Ah ecco! Fammi togliere il casco per il pollo! Se c'è qualcuno! Vai collo! Va tutto alla canale! Eccolo! Oh porca puttana! Va tutto bene! Aspetta fammi le portare a... Eh ragazzo! C'è Liettero! Liettero è muorto! L'aspetta lo vedo! Oh purta miniera! Oh my god! Oh my god! Wuhuu! E' ogni tanto cod diventato! Arrivo my friend! Oh my god! Ma cammini tutto lento che fai? Che fai? Sono io! Leghiamolo! Si prova nudo! Si prova nudo! Oh my god! Che cazzo succede? L'ho bloccato! Regas! Non va giù! Non lo meno più! Marco! Spesso io non vi preoccupate! Sei vivo! Sono vivo! Ok! Ma c'è qualcuno! Gira a destra lì in fondo! Bravo bravo! Questo l'ho fatto assederselo! C'è qualcuno qua! Ma non capisco dove! Dino io non sono più con te! Come non sei più con me! Eh no! Sono andato da Morelli! Marco giri ti sono io! Non mi sparare! Eh non c'è Moro! Ma vai tranquillo perché è morto! Com'è morto Moro? Fammi impacchettare un po' di più! Sono morto! Che miserie! No aspetta ti dico di fermarsi! Ciao Lisa! Tutti due se li ha fatti! Mi si è spenta la luce della vita! Riproviamo! Riproviamo! Riproviamo con più tranquillità! Che successo! Con più serenità! Allora questa volta seguiamo sempre Lizard? È stato un po' io il primo! Certo! Ma qui c'è! Ma è morto questo signore! Merda! Era un civile! Nooo! Che ci fa un civile qua sotto? Eh ma che ci fa? Oh! Ma lo vedo io! Ragazzi! Non ho più gli occhi purtroppo! Via via! Non vedo niente qua! Non vedo niente qua! Andremo ad essere uno di... Occhio! Mamma mia! Allora Moro! Alla posta a sinistra siamo noi! Ne ho ucciso uno! L'ho preso? No l'ho preso io! L'ho preso io! L'ho preso io! Chi è che? Oh! Porca miseria! Oh mio Dio! Moro è svenuto su se stesso! Ma che ride lì! Moro! Che ci è successo? Ragazzi! Ma scusami! Sono rallentato con i pensime... E salutiamo! Sì! Un po' l'altro! Guarda giro qua non c'è nessuno! Infatti è bello! Dietro di te invece? Ma non c'è nessuno! Ma io no! Io uso il... Ma guardi... Oh Dio! Ah! 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 E' un amico! Eeeh! Eeeh! Che forte verifica! Che forte verifica! Cosa ridi di Moro che sei più un pollo di gomma! Moro! Eh! Oh! Sono io! Sono io! Sono io! C'è una signore! Eeeh! 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 Scusami! Perché una signora avreste tutto che rivelarla così? Non lo vedo il signore! Henry! Perché ci si sa non vedi una massa? Vieni qui! Ecco è morto pure lo stal! E' morto pure lo stal! E' morto pure lo stal! Ma vanno via quelli la! Allora... Ozio eh! Ozzo ozzo ozzo! Qua li possiamo uccidere come su takedown! Uh! Porca putana! Mamma mia! Ahahah! Come sei morto! Che sorridi! Ahahah! Mi muoiono tutti davanti! E' bellissimo! Ma vaffanculo eh! Ma come sei morto? Scusa! Oddio! Eeeh! Che morto lungo! Ahahah! Ma questa mappa è impossibile! Mi ha ucciso Moro! Sto piandosi il pifero! Ahahah! No però... Perché mi guardi così vicino? Lino? Vado io eh! Vai vai! Arrivo ragazzo! Ho lo scudo non vi preoccupate! Non correte più nessun pericolo! Ah intendi a risolver il signore! Il signore! Nel senso di questo che ho ucciso? Ah è quello? Vai Moro! Tu sei scemo eh! Non passa... C'è qualcuno... Oh mio dio! No! Stai fermo! No! No! Ma me l'ha morto lui! C'era Claudio Bitter dietro! L'avete visto? Dov'è? C'è un quadro famoso! Questa si chiama la Mona! Ma non insultare Marco però! No! Non c'è Lisa? No! Posso sparare nella testa? Eh? La Liorona? Non spruzzare sulla Mona! Se no dobbiamo rigirare all'infinito per trovare che... E mi raccomando! No! Occhio! 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 Ma scusa ma questo è stato un bastardo! Mamma mia! Quelli si è arreso e poi mi è inculato! Ascensione! Tu sai che lo stordisci anche se gli sbatti la forza? Ah! FBI! Open mind! Non è morto! No è morto! Lui c'era un altro! Ragazzi che strage! Terrificante! Ma perché mi dice sempre così? Sono solo 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 io? Si! Piano eh! Piano! Vai così dai! Guarda come salta in aria! 3, 2, 1! Vai! Io credo in me! Ahahah! 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 Marco ma porti di una sfiga bestia! Ma io lo sapevo! Ne abbiamo aperte 47 e non c'era mezza bomba! Eh ma il fatto è che qui erano due porte consecutive con la bomba! Perché io sono morto in quella prima con la bomba! Allora non vedo nessuno... Ma questi sono Pirna eh! Ahahah! Scusa non l'ho fatto neanche a post! Non riesco a usare i disturbi! Ahahah! Ahahah! E' morto! E' morto lì no? Harry? No io sono morto! No Harry! No ragazzi aspetta dobbiamo ricominciare! Ma come avete fatto a uccidere quello dietro di me? Scusa! No Moro ti ha sparato dietro la schiena! E io sono morto! Cioè tu non sei morto io sì! Ma infatti come ha fatto a morire quello dietro di me che io ero la mortadella nel panino? Tra l'altro ho visto tutti i colpi parati dallo scudo! Marco ti ha ucciso lì! Ah avevo lo scudo ecco! No no ho ucciso lì no! No ti ho ucciso io perchè ho ucciso quello dietro Moro! Aaaah! Ma perchè c'è la porta già aperta scusami! Ma siamo partiti con la porta aperta! Si voglio sparare qualcosa di quantiche discussioni che stanno facendo noi! Non sono io giuro! E vai ragazzi andiamo! Sì ragazzi! Sì! Ma è morto lì no! Ma l'ho aperta io la porta perché è morto lì no! E non c'era nulla niente lì è stato pure inutile la tua morte! Ma perchè c'è un water qui con dentro la pizza? Ma me lo sto guardando! Sei giusto sei giusto! Oh oh! Quello è scappato! Quello è scappato con la pistola eh! Se serve! Non ha mai funzionato! Il porco! Ha la fontanella aperta! Ma dov'è morto! Mi sono curato abbastanza alla svelta! Nooo! C'è un tizio qua dietro ma non so se è arrivato! Pronti? Pronti! Molto probabile! È morto! È morto! È morto! È morto! È morto! Lì è trovato il canale! Perché dovevi cadere! No! Tu hai visto il civile e li hai sparato dritto per dritto! No! È che volevo aprire la porta! È morto uno spacciotti a mano! No! Era buon ultimissimo! Se ti fidi mi ricordo dove è la scappa! Vai vediamo! Vai fidiamoci di Marco! Tutta la mappa. No, non mi ricordo mi ricordo No, non c'è niente Gli è chiusa, Marco, è di qua Aspetta, aspetta C'è una salita tutta la zona Alla casa Dritto, dritto, no, dritto, dritto Ecco, bravo Ma non ti ho seguito io perché non mi fidavo Ma c'è letto il lieve Marco, via No, dietro di te c'è le bottiglie volante A sinistra c'è le bottiglie che volano Io mi sono morto Fa finta di essere morto, Marco, secondo me Sarà malissimo, Gid Vai, corri per un'altra mancabella Marco, devi andare Che invio? Alcuno, che ha fatto palo? Che ha fatto palo? A destra, a sinistra Ma davvero? A sinistra Il fob va un centimetro Ma lo sto a prendere la porta Di fronte a me c'è una persona C'è una persona di fronte a me Un trappola Qua c'è il civile C'è che sta giocando con il... Ma non so se era cattivo, Erwin Non ho detto che era cattivo Scapparin, correlo L'ho crivellato di colpi Ma magari c'era una cameriera Io vado di qua Non mi riguardo Non mi riguardo Non mi riguardo Poi dovremmo cercare anche la metanfetamina Ma questa cosa cos'è? Ma non c'è la metanfetamina qua? C'è Ah no, si prende l'acqua C'è solo nella casa dei drogati Comunque niente qua Ma ci sarà l'oltre Oh 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 Ma si è abbassato Hai visto che ha fatto i tatakimasu? Ma che c'è un bel di pancia? Dagli una mano E guardalo Guardalo Non credo voglia cedere Cosa? Dove l'hai messa? Ahhhh Ho terminato il ragazzo qui Ok Ok, l'avete terminato Ah, l'avete terminato Mamma mia Chi è quello laggiù? Sono io, sono io, sono io, sono io, sono io Ah, ah Occhio che a sinistra A sinistra prima è terminata la mia esistenza Ah, qua c'è la boss del dragons Provo a bussare Fede, fermo, fermo, fermo No, fermati Ho bussato intanto Ma che fa? È ancora vivo Riproviamo Dov'è? Dov'è? Vedete che ti riguardo No, si è messo in ginocca Uh, bravo È una figa sta cosa che si ginocca Perché non so Oddio, c'è uno Ah, ecco N'è un'altra di signora qui, eh Attenti Ah, belbredi, vedi, abbiamo completato l'obiettivo Era lei Era la VIP Ma che maglietta c'ha? Perché c'ha tipo Ha un cielo fan nella strezza Dietro la L'ha messa al contrario Se la metti giù Ma le vuoi riportare questi arresti? Ah, scusa, non me lo ricordo mai Eh, sai Dovevano tornare indietro E cercare tutti quelli che avete arrestato, eh Ma non c'è più nessuno, ragazzi È una burla È un bug, come sempre Poi alla fine non lo è mai Però come sempre Eh, guarda Spara, 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 spara No, non so dove è ricco adesso Non vedevo niente No, è morto No, è in quell'altro Ma hai sbagliato stanza Mi hai curato, va bene Ma potrebbe essere ancora Nell'intercapedino No, no, è lì Ho sentito farino Io credo in te, morel Se perdete, mamma mia Vai, vai Vai, vai Vai, vai Va bene No, lo arrestiamo Dove è ricco? È morto io Eh no, lo so Volevo riportare il cadavere alla tua famiglia 40 minuti per trovare un tizio nascosto in un buco in un muro Attendo che magari c'è un altro, eh Dentro lì Come, dentro qui? Sì Porca miseria, ma che intercapedino è qui? Sì, anch'io lo sapevo Dai, ne voglio fare un'altra Bravo, Moro Li denuncio Ne voglio fare un'altra Piccola ma Edguarters Sì, la gas station che va bene Dai, gas station è piccola e facciamo Bomb treat Qua non l'abbiamo mai fatta No, la bomba, no Ma guarda, è quella della bomba? Ma scusa, hanno messo tutti i miei Ah, dobbiamo correre, porca miseria Correte Ragazzi, mi hanno ucciso No, sei di lui Fermati, fermati Ma che succede qui, amici? Sono qua di fianco, lì, sono qua di fianco a destra Dove è scappato? Chi è morto? Nessuno Dobbiamo trovare le bombe, proprio Che sarò qua, si sta Oh, ma quello lì sta E come fa? Oh, qui, sto Ma non ci sono terroristi Perché devo morire io? Oh, madonna Ok Ma se si fermi Oh, mio Dio È morto, avete ucciso, avete ucciso Oh, sento una bomba, è qua Ragazzi, non ci sono più nemici Rush B, rush B Come non ci sono più nemici? Eh, già lo dice Metralizza tutti È già fatto Eh, ragazzi, abbiamo vinto il gioco Trovato la bomba, la ha defuso, me lo vedo io Oh, bisucca questo Eh, lì, sei morto? No Sono stato bravo Abbiamo vinto Abbiamo vinto, non è morto nessuno Nessuno Oh, qui voglio una X No, di breve Dove sei, Lino? Dove sei? Ti sparo Ah, gli amici sputano Perché sono rotto? No, 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 no No, guarda che ci sta togliendo No, ci sono gli ospaggi Mi dimentico, se non lo vedo Oh, no Nonificano Mi ha dato le botte lì Potevamo veramente fare S Potevamo fare... No, S no, perché avevamo un ucciso civilo Vabbè, un po' un punteggio Un po' un punteggio Vabbè, ed è quarto F di fichi Allora, vi dici cosa l'abbiamo mai fatta L'hai riportato, hai preso l'arma Abbiamo avuto la stessa idea Ok Allora vanno da qua L'uno imido Oh, wow L'uno imido Questo qua l'hai riportato? Oh, signore, ha un'arma, l'ho visto Eh, post it Tutto qua, tutto regolare Vai, Marco Giusto giù Ma qua c'è una sturdente davanti Ma tu sei un criminale Chi mi spara? E se un bambino sparo Ma chi mi ha sparato? Ma scusa, Harry Ma se gli sparano si disattiva? Ma io adesso vedo con gli occhi di mango E' una bomba nucleare, non esplode! Perché non mi fa alzare? Nooo, ma eravrei! Avevo capito un'altra cosa, eh! Police brutality! Chi mi ha sparato? Eh, chi lo sa, chi lo sa, Marco Oh shit, ma questo era uno davanti! Ma qualcuno si è tolto i pantaloni? Ero io Ma lei non è confermato? Uh, che paura, minchia! Non avete confermato questo qui, è passato molto sicuro Uno non era confermato Guarda che non li riporta, Morelli! Morelli, se n'era uno qui non ha riportato! Chi? Questo qui vicino al cartello! Ma non è vero, l'ho riportato! Sì, non è vero quello lì, non è vero! Allora è buggato, ragazzi! Tu mi riportalo, non lo riportato! E mi ha distratto la sagoma furente! Ma quello è un civile a fuori, ma porca parte! Dove cazzo è? Ma anche l'altra volta l'ha scappato! All'inizio proprio! Avete bringato il caos! E l'arresto da Civilians? Possiamo ancora finirlo, eh! Eh, ma quello era un cattivo, allora! No, dentro non c'è niente! Ti fate venire giù un mese prima! Ah, ragazzi, ah eh! Adesso non ammazziamoci adesso! No, fate peggio! Ok, adesso per forza Eh, no! Abbiamo fatto un meno 100 punti, l'abbiamo fatti, però solo quello! Eh, allora è... Traps disarmed non l'abbiamo fatto, vedi? E Officer Injured abbiamo preso dei dati! Io l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato e l'abbiamo sparato! Ma come? Ma scusa, l'abbiamo salvati tutti! Erano quelli già per terra! Dì, dai! Posso dire una cosa? Mi dava più soddisfazione avere F, piuttosto che D! Senza, devi sempre fare questo spazio! Ma poverino! Stava a avere un padre di famiglia che è stato arrestato qua da giorni! Che poi... Questi qua sono dei terroristi incredibili! Gli spari un po' di peperoncino e fa... No, scusami, perdonami! Non mi drogo più, bastano un po' di peperoncino! La spaghettata si risupeva tutto! Si ferma! Eh no, non vuoi arrendersi! Vabbè che non ho capimato da qui! E' bravissimo! Ma dove lo stai seguendo? Ti sta portando a casa sua! Non si ferma! Ma dove sta andando, Morelli? Non si ferma! Giulia, grazie per te! Giulia, Giulia, spara chi ne vedi! Questo non l'aveva riportato, eh! Ma era tuo quello lì, l'hai fatto tu quello lì, Moro! Che non l'avete riportato? L'hai fatto due secondi fa tutto! Ma! Ah, che troppo! Ma dimenti! Oh! 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 Grazie a tutti.